Capita, gira di un attimo, capita? E vabbè, saluto tutti, giusto? E vabbè, non so, vedi la stessa attenzione, vabbè? Finalmente, vabbè, vabbè la stessa attenzione. Mettetemi sinirà, non capirà. Mettiamoci un grado. Ma in grado? Fate un po' spazio, un attimo. Sì, un attimo. E allora, se ti sposti, io mi sposto. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.